Amici carissimi di Neltoca Azzurra e Meteo Brollo, buon giorno a tutti e naturalmente buon inizio settimana. Alcuni dati sono circa due mesi che sul nostro territorio e non solo non piove in maniera significativa. Un dato su tutti i mesi di gennaio, che tendenzialmente resta comunque un mese molto assulto e davvero di precipitazioni, ha visto per il momento solo circa 4 mm di pioggia per metro quadro. Quindi possiamo tranquillamente dire che sotto il Veneto vive un momento di siccità. Quindi speriamo che le piogge previste, le nevicate abbondanti in montagna si facciano strada nel mese di febbraio, altrimenti avremo seri problemi per la primavera entrante. Ma ritornando a quelle che sono le condizioni meteo, possiamo dire che questa settimana potrebbe segnare il passo. Sì, perché l'inverno sta per scatenarsi, nel senso che saranno ben tre gli eventi perturbati che transiteranno sulla nostra regione, cominciando da oggi, sul finire della prossima settimana. Nessuno di questi sarà comunque sconvolgente, ma naturalmente potranno dare degli effetti piuttosto vistosi sul territorio, specialmente del nord. La perturbazione di oggi ha creato un minimo barico sull'alto Adriatico, che naturalmente ritarderà il passaggio verso sud-est, creando appunto questo minimo. Le regioni che saranno più coinvolte dei fenomeni saranno appunto il Basso Veneto, l'Emilia Romagna, le regioni del centro e del sud Italia. Marginali comunque sono stati e saranno gli effetti sul territorio diciamo clodiense, con qualche minuto di pioggia, un po' di ventilazione dal nord-nord-ovest e niente più. Entro il pomeriggio sera l'istrazione migliorerà, ovviamente coapportando poi domani una giornata tendenzialmente soleggiata e buona, a parte qualche banco di nebbia probabile proprio della mattinata. Poi sarà da mercoledì che la situazione comincerà a cambiare perché un ulteriore fronte con la nesta depressione transiterà in maniera abbastanza veloce sul nord Italia, apportando significativo maltempo sulle regioni del nord-ovest del Tirreno, marginalmente anche sulle nostre zone, verso la serata di mercoledì, con neve a quote interessanti. Per interessanti intendo tra i 200 e i 100 metri. Qui staremo un pochino a vedere. Poi ulteriore pausa soleggiata tra giovedì e venerdì e poi nuova ondata depressoria tra venerdì e sabato che dovrebbe scaricare ulteriore appunto apporto liquido sul nostro territorio. Il tutto sarà condito con un rinforzo dei venti, da prima dal nord-ovest e poi dal nord-est, temperature che si manterranno comunque su valori consoni al periodo, quindi tra i 2 e i 3 gradi notturni ai 5 e 8 gradi del pomeriggio, ma essenzialmente non rigidi. Quindi questa in sintesi della settimana entrante, vi auguro comunque una buona giornata, ci sentiamo domani.